Scopriamo assieme i musei più belli del mondo. Un viaggio tra i capolavori, le sale e le stanze dei Musei Vaticani raccontate da una guida d'eccezione come Alberto Angela. È il percorso che si compie nei sei DVD che compongono la collana alla scoperta dei Musei Vaticani. La serie è stata prodotta dagli stessi musei, dal Centro Televisivo Vaticano, da Officina della Comunicazione in collaborazione con RaiCom e il gruppo editoriale L'Espresso. A partire da sabato, in allegato con il quotidiano La Repubblica, è possibile acquistare il primo dei sei DVD che compongono la serie. È una sorta di enciclopedia di immagini in movimento, spiega il professor Antonio Paolucci, direttore dei Musei Vaticani, chiunque potrà capire lo storico interesse, il rispetto e l'attenzione della Chiesa di Roma per la cultura e per l'arte. Un segno di attenzione che ha scandito questi secoli e che anche oggi, attraverso questi DVD, intende far meglio conoscere i tesori dell'antichità classica, la Conte, l'Apollo del Belvedere, le testimonianze dei popoli antichi, gli etruschi e gli egizi, fino ai capolavori dell'arte italiana, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio, per arrivare a Matisse, Van Gogh, Bacon e Manufatti delle culture extraeuropee.